buongiorno ciao a tutti e bentornati sul mio canale di sitrading oggi facciamo una cosa diversa facciamo il video di prima mattina e lo facciamo all'esterno ho deciso di uscire per ossigenarmi un attimo il cervello perché dopo due giorni di casa e due giorni di ribassi mi era venuto il mal di testa è una cosa che consiglio a tutti ragazzi uscite andate a prendere un po d'aria fresca ok il virus non vi si attacca perché tira un po di vento o perché un ciuffo d'erba vi sfiora la faccia quindi godiamoci questa giornata di primavera già anticipata e facciamo un po di vita sociale anche magari con le dovute precauzioni ok innanzitutto diciamo che qualcuno finalmente ha acceso il cervello e quindi smetteremo di dare notizie smetteranno di dar notizie in media in media che tendono a spaventare tutti insomma a fare a fare di queste notizie dei casi eclatanti anche gli ospedali stessi cominceranno a dare solo notizie di pazienti in prognosi riservata o di decessi che comunque vi ricordo al momento rapportandoli ai decessi della comune influenza sono veramente una cosa ridicola detto questo ho letto stamattina che hanno isolato alcuni ceppi di questo virus che pur essendo simile in molti pazienti sembra che in maniera un po quasi impercettibile muti da paziente a paziente detto questo adesso utilizzeranno questi questi frammenti di virus per costruire il genoma e per cominciare le sperimentazioni dei dei vaccini a costruire i vaccini ora torniamo un attimo ai mercati perché abbiamo già parlato fin troppo di questa storia che è una buffonata enorme allora ieri il nas partiamo dal nasda che ieri il nasdaq è crollato di oltre il 5 per cento una cosa che non accadeva da non so quanto tempo non mi ricordo non ho controllato e stamattina è andato a rimbalzare se guardate il grafico giornaliero esattamente sulla media a 200 periodi che significa questo significa che il mercato è manipolato esattamente come come succede molto spesso in questi casi e su un mercato manipolato chi vince vincono le balene quindi era tutto molto calcolato ieri ha rotto stanotte ha rotto anzi ieri sera è andato a testare la resistenza 8003 che vi avevo segnalato nel video di ieri e degli altri giorni e stanotte ha rotto anche la resistenza 8003 andando esattamente a posizionarsi sopra la resi sopra la media 200 periodi una cosa assolutamente prevedibile e da questo medio 200 periodi stamattina sta rimbalzando un pochino adesso hanno aperto i mercati europei non ho guardato bene come si ammessi ma dubito che siamo messi molto bene comunque il nasda che dovrebbe essere intorno a 8.250 mi pare qualcosa del genere cosa possiamo aspettarci a questo venerdì è difficile dirlo questa volatilità è assolutamente impossibile fare previsioni qualche tipo per cui mi raccomando calma sangue freddo ricordate che siamo in un momento di alta manipolazione al di là delle delle notizie e ve lo dico perché perché guardate loro loro anziché schizzare in alto come ci si sarebbe aspettato dopo un crollo simile la parte dell'azionario ha ritracciato e quindi ritracciando non è stato non ha potuto bucare quei record che tutti si aspettavano e come mai loro ritraccia ritraccia perché molto probabilmente chi l'ha fatto salire chi l'ha pompato così in alto adesso sta tirando un po le somme e quindi porta a casa i guadagni detto questo questo virus comunque fa male fa male ai mercati soprattutto e all'economia già molte aziende soprattutto del settore tecnologico ma non solo hanno cominciato a lanciare dei warning quindi tutte le loro previsioni di guadagni fatti con l'ultimo report earning molto probabilmente non saranno rispettate per i prossimi trimestri almeno per il primo e probabilmente anche per il secondo adesso staremo a vedere questo cosa significa significa che gli investitori cosa fanno siccome sanno bene che questi report molto probabilmente saranno negativi e quindi alla pubblicazione degli stessi ci saranno delle discese cominciano a portare a casa i guadagni portano a casa i guadagni e come vendendo le azioni ovviamente perché tanto diceva beh tanto scenderanno lo stesso che lo scendono adesso che scendano dopo chi se ne frega intanto mi porto a casa gli ultimi dieci anni di guadagni ok perché come vi ho fatto vedere dal grafico di ieri guardando il nasdaq e non solo il nasdaq anche gli altri indici veniamo da una bull run di 11 anni più o meno una cosa abbastanza incredibile e come ho fatto vedere ieri se guardiamo fibonacci questa bull run soprattutto sul nasdaq significa potrebbe portare a un ritracciamento ancora più profondo potrebbe arrivare addirittura a toccare 6 mila ma questo nessuno lo sa o almeno se lo sapessi in anticipo saremo tutti milionari detto questo un comunicato ai miei copiatori su etoro che sono preoccupati diciamo dell'andamento tranquilli ragazzi tutto quello che scende prima o poi risale e così via i mercati sono ciclici io sto attivando le mie strategie per cercare di contenere adesso questa follia che si sta verificando in questi giorni però non non temete tutto quello che scende prima o poi risale quasi tutto ma ce la faremo vedrete detto questo abbiamo parlato dell'ora abbiamo parlato del nasdaq un'occhiata veloce al bitcoin che in questo momento mi sembra che sia intorno ai 9.700 scusate a 8.700 anche bitcoin è andato a rimbalzare sopra la media 200 periodi e si ha portato nella zona rossa scusate non zona rossa nel rettangolo rosso che vi ha disegnato nei giorni scorsi se andate a vedere gli altri video vedete che sul grafico di bitcoin e io gli ho disegnato dei rettangoli rossi quel rettangolo rosso è una zona di attenzione del ritracciamento possibile che poteva subire bitcoin in questi giorni ora si avvicina il weekend quindi cosa possiamo aspettarci solitamente durante weekend bitcoin tende a muoversi in maniera un pochino più forte tranne la settimana scorsa che ha avuto un oscillazione del solo 4 per cento di solito nei weekend si muove un pochino di più quindi vediamo se ci possiamo aspettarci che possa crescere tornare a sfidare la quota 9.000 e andare un pochino più su saremo a vedere per il momento ripeto non cambia la mia visione sul bitcoin che è ancora rialzista il petrolio perché vi parlo sempre di questi quattro asset perché sono gli asset che questi in questo periodo particolare dei mercati sono gli asset che hanno maggior guadagno maggior perdita che sono quelli che ci permettono di giocare un po meglio col trading giocare poi una parola brutta non si gioca col trading ragazzi non giocate mai con i vostri soldi il petrolio mi aspettavo che arrivasse intorno ai 45 dollari tra ieri in realtà già stanotte non ci è arrivato in realtà malgrado anche i venti di guerra che soffiano tra russia e turchia non so se avete letto gli ultimi notizi ma pare che dei soldati turchi siano stati attaccati da un bombardamento russo nel nord della siria e già questo non non è una gran bella notizia che si va a sommare anche alle altre e mi aspettavo che il petrolio potesse andare prima a toccare i 45 dollari e poi tornare verso l'alto perché se comincia a esserci anche un problema di guerra in medio oriente il petrolio in genere queste cose qua le sente e tende ad alzarsi staremo a vedere certo in questo momento particolare diciamo di problema di sanità mondiale un conflitto tra due potenze come la turchia appoggiata dalla nato e la russia che appoggia il regime siriano diciamo che non serve proprio non servirebbe a prescindere staremo a vedere oggi è venerdì in genere venerdì i mercati tendono a tirare le reti in barca a raccogliere i frutti della settimana ma in questo caso i frutti della settimana sono negativi in una settimana ho fatto due calcoli e sul variabile diciamo sul capitale investito prevente in una settimana in teoria ho perso quello che ho guadagnato in un mese non parlo di posizioni chiuse parlo di variabile investito quel capitale investito sulle posizioni chiuse in realtà è andato molto meglio perché al momento mi sembra di che sembra di aver visto ieri ieri sera le ultime statistiche sul mese di febbraio ero circa al più 2 40 per cento 2 50 per cento quindi le posizioni chiuse sono andate abbastanza bene questo mese però ricordatevi le perdite anche se vedete del rosso nel vostro portafoglio le perdite fino a che non chiudete le posizioni sono virtuali ok non fatevi prendere dal panico aspettate il trading e pazienza e soprattutto la costanza studio molto studio e molta pazienza detto questo per il momento non ho molto altro a dirvi volevo farvi questo piccolo video di aggiornamento giusto perché mi sembrava giusto darvi una ventata di di ottimismo ok lo so che difficile dare ottimismo quando i mercati crollano però quello che è successo con il nasdaq che è rimbalzato sulla media 200 periodi è palese che sia proprio una manipolazione pura questo quindi cosa chi è che fa che vende chi è che fa andare i mercati così in basso sono le grandi 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 investitori chi ha capitale per muovere il mercato in questo modo e come lo fa la maggior parte lo fa attraverso algoritmi attraverso computer che fanno trading automatico e quando gli algoritmi arrivano su determinati segnali quali la media 200 periodi i ritracciamenti di fibonacci supporti e resistenze storici gli algoritmi percepiscono questo tipo di segnali e cosa fanno fanno delle operazioni per cui chiudono tutte le operazioni che stavano facendo in quel momento e le reinvertono ok spesso succede questo perché far cosa per capitalizzare subito i guadagni ottenuti velocemente e poi magari rigirano di nuovo ok molti algoritmi sono auto apprendenti diciamo grazie all'intelligenza artificiale auto imparano un po come si comportano alcuni grafici poi vi parlerò di un'azienda che con questi algoritmi fare faccia miracoli fare e detto questo per il momento vi saluto prontori a b mettere in pomeriggio pubblicherò un altro video di analisi tecnica vedremo un attimo i grafici e per il momento è tutto mi mi raccomando uscite prendete un po di aria fresca godetevi queste fantastiche giornate se siete a casa in telelavoro ogni tanto mettete il naso fuori dalla porta soprattutto per chi in zona milano milano in questi giorni è stupendo ragazzi non c'è in giro nessuno si trova parcheggio si può andare a visitare qualunque cosa adesso ne ho riaperto anche il duomo stamattina quindi i soliti accorgimenti ragazzi quelli del virus non quelli del virus quelli della febbre lavarsi bene le mani se starnutite mettete la mano davanti alla bocca se tossite mettete la mano davanti alla bocca anzi in questo caso magari mettetevi una mascherina così almeno come i giapponesi quando sono raffreddati oppure hanno la tosse si mettono le mascherine perché perché è un senso di civiltà per non infettare gli altri non è che vanno in giro con le mascherine come fanno alcuni cinesi perché così hanno paura di infettarsi alcuni devono proteggerti perché magari hanno delle malattie respiratorie croniche per cui non possono magari respirare troppo smog eccetera eccetera ma i giapponesi per loro cultura se sono malati non vanno in giro sparge germi a chiunque ok perché è il rispetto per gli altri e questo questo virus ci deve far capire che il rispetto per gli altri è importante ok ho visto scene apocalittiche ragazzi ho visto scene ridicole che fanno sorridere al di là dei supermercati svuotati di gente italiani contro italiani voi del nord perché venite al sud a infettarci tornate a casa vostra ragazzi questo virus non sta girando da un giorno sta girando da due settimane sono mesi che sta in giro da quando se ne sono accorti in cina chissà da quanto tempo è che già stava in giro e chissà dove è finito dove era andato già ok non è che è scoppiato qua in italia è arrivato l'altro giorno sarà qua almeno già da due mesi come minimo e chissà in quanti ce l'hanno avuto non se ne sono accorti me compreso magari ce l'ho già avuto che ne so quindi mi raccomando ragionate con la vostra testa siate sempre in qualche modo critici ma riflettete non vi fate condizionare dagli altri e dalle notizie catastrofiche informatevi sempre noi ci vediamo dopo per un nuovo video come sempre stay tuned and think across it ciao a tutti